Io qui farei una cosa molto da copertina storta Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Ma che roba se non delle pennellate Si bruciano con il calore Non hai visto come si è sviluppata subito? Siamo venuti qua con l'idea di fare un pezzo solo Però come sempre quando decidi cosa fare non lo puoi decidere prima Ma lo devi decidere quando sei lì al momento dello shooting Perché magari hai una visione della realtà E poi quando arrivi è completamente diversa Sia nelle forme che nelle dinamiche Che diciamo anche nelle sensazioni E quindi devi seguire il tuo istinto del momento Sarà giusto fare tre opere dinamiche forte Con la loro struttura futurista Duciampiana, Garimbertiana Soprattutto l'ultimo è molto legato al nudo che scende le scale di Duciamp Quindi siamo molto contenti Sì, molto Ma è bellissimo questo Perfetto Soprattutto l'ultimo è molto legato Soprattutto l'ultimo è molto legato Grazie a tutti.